Buongiorno e ben ritrovati ad Einaudi C'è. Questa è la seconda puntata dell'anno e il tema di oggi sarà quello dello sport. Probabilmente non lo saprete ma nel nostro istituto ci sono 55 studenti atleti che su un ammontare di 1493 studenti sono il 3,7%. Per questi studenti l'istituto Einaudi offre una serie di agevolazioni ovvero delle interrogazioni programmate, l'esenza da verifiche e interrogazioni lunedì mattina oltre ad un numero maggiore di assenze permesse. In questa puntata intervisteremo alcuni dei nostri studenti atleti e inoltre avremo due ospiti importanti Manuel Frigo nuotatore della Nazionale Italiana e Manuele Paduan giocatore della Nazionale Italiana Calcio. Ora lascio la parola alla nostra intervistatrice. Puoi dirci qualcosa di te? Mi chiamo Azurra, ho 14 anni, faccio 15 anni a ottobre e pratico danza sportiva da più o meno quando ho 3 anni, quindi 11 anni. Come è iniziata la passione per questo sport e quali sono stati i tuoi primi passi? Allora, fin da piccola ho sviluppato questo amore per la musica e per il movimento. Quindi fin da piccola i miei genitori, i miei nonni rivevano che ero sempre molto movimentata e a 3 anni mia nonna ha deciso di portarmi nella mia prima scuola di ballo dove tuttora vado. E hai degli idoli di riferimento, delle persone da quali prendi spunto? Sì, diversi, ma la maggior parte di loro sono stranieri, come Giulia Zaguricenco oppure Joanna Leunis, che sono delle grandi ballerine che danno molta ispirazione anche a altre persone, altre ballerine, e sono un grandissimo punto di riferimento. Hai progetti futuri a livello di vita o di sport? Allora, per il momento ho una gara in calendario che sarebbe a Stoccarda, in Germania, per il momento, e poi si vedrà perché con la questione del Covid e della guerra non è ancora molto sicuro. Però di vita o intenzione è finita una volta la scuola e avere comunque un testo per andare comunque a lavorare, se il mio piano non andassi in porto, di andare a lavorare in una compagnia di ballo all'estero, quindi viaggiare nel mondo, imparare culture nuove e cose. Il tuo sport, l'attività ti porta a viaggiare molto? Allora, dipende sempre dal percorso che intraprendi, quindi ci sono comunque i percorsi che ti fanno restare solo in Italia, ma comunque viaggiare in Roma, Napoli, Puglia, vai in Puglia, vai in Sicilia. Infatti gli italiani di quest'anno non sono più a Rimini, ma li fanno quelli dei balli di coppia, se non sbaglio, in Toscana, e i balli singoli li fanno a Catania, se non sbaglio, non sono ancora sicura. Però quest'anno ho deciso di non fare gli italiani, ma di intraprendere comunque un percorso internazionale, quindi andare in Ucraina, anche se in questo momento non è possibile, in Russia non è possibile, quindi più o meno Inghilterra, Germania, Spagna qualche volta, quindi è molto movimentato, sì. Che tipo di danza pratichi? Pratico le danze latino-americane, quindi non quelle che pensano tutti, la bachata, la salsa, altro tipo, per esempio il samba, il cha-cha, la rumba, passo dopo le jive, però ho anche praticato standard, che purtroppo ho mollato quest'anno per vari problemi, quindi gli standard, quindi comprendono il valser lento, il tango, il quick step, lo slow fox e il valser vianese, quindi molto muscolare tutto quanto. Ciao a tutti, sono Andrea Doneda e gioco a basket nell'Oran Juan Basket Bassano e gioco da quando sei anni. Come è iniziata la passione per questo sport e quali sono stati i tuoi primi passi? La mia passione è iniziata appunto quando avevo sei anni, seguendo le tracce dei miei fratelli, che avevano iniziato anche loro a giocare a basket, e da lì ho trovato subito passione in questo sport e ho iniziato a seguirlo. Quali sono stati i tuoi sacrifici più duri? I miei sacrifici più duri sono essere trasferito fuori di casa, e infatti vivo da solo da quando ho 14 anni, e è stato il sacrificio più grosso che ho fatto, abbandonare la mia famiglia. Riesci a conciliare gli impegni sportivi con la vita sociale? Sì, è abbastanza difficile conciliare tutti gli impegni sia scolastici che nella vita sociale, insieme allo sport, perché ho molto poco tempo libero, e quel poco tempo libero che ho lo uso appunto per la scuola. Puoi spiegare un po' il trasferimento, perché c'è stato? Mi hanno chiamato appunto da Bassano per fare un torneo in prestito, e io sono di Bergamo. Ho fatto questo torneo e in seguito alla prima ondata di Covid, mi hanno chiesto di trasferirmi a Bassano per provare questa esperienza, e fin da subito è stato difficile convincermi e lasciarmi andare fuori di casa, però sono riuscito fin da subito a convincerli, e appunto sono fuori di casa da due anni e mi sto trovando molto bene. E come hanno reagito? Sono contenti di, nonostante comunque la mancanza? All'inizio erano molto preoccupati a lasciarmi da solo così piccolo, però adesso si sono accorti che riesco a gestire tutto bene, quindi sono tranquilli. E hai avuto delle indecisioni sul tuo percorso di sport a livello agonistico, su quando te l'hanno proposto? Ho avuto un po' di preoccupazione ad andare a vivere da solo appunto così piccolo, però erano più i miei che avevano molte indecisioni. E hai dei consigli per chi si sta affacciando al mondo dello sport agonistico? Se hanno degli obiettivi e dei sogni da raggiungere, di metterci tutto l'impegno possibile e fare tutti i sacrifici che servono. Hai dei progetti futuri a livello sportivo e di vita? Gli obiettivi futuri sono di raggiungere delle squadre di alto livello, o in Italia o all'estero, e di vita, di avere una famiglia comunque oltre a questo impegno sportivo. Ok, grazie mille per la disponibilità, buona fortuna. Grazie. Puoi raccontarci qualcosa di te? Allora, mi chiamo Tommaso Ordeghiero, ho 17 anni, vengo da Bassano. Ormai da 13 anni pratico calcio e da 5 a livello agonistico. Come è iniziata la passione per questo sport e quali sono stati i tuoi primi passi? Allora, già da quando ero piccolo uscivo spesso con i miei amici a giocare a calcio nei parchetti vicino a casa mia, così quando ho avuto l'età minima per iniziare ho deciso di iscrivermi alla prima scuola a calcio e da lì è iniziato il mio percorso. E ci racconti la tua routine quotidiana e com'è cambiata rispetto a un tempo? Allora, rispetto a quando ero piccolo è cambiata molto. Ora parto di casa circa alle 6 di mattina e torno alle 7 e mezza di sera, non tornando mai a casa. Mi fermo a scuola a mangiare, dopo di che prendo un pullman, vado ad allenamento e con lo stesso pullman torno a casa. Quali sono stati i sacrifici più duri? Allora, sicuramente sono la famiglia e gli amici, perché questo impegno mi porta via moltissimo tempo che devo dedicare anche alla scuola, perciò mi toglie appunto moltissimi giorni che potrei dedicare a loro. La scuola ti offre l'opportunità di conciliare lo sport con gli altri impegni? Sì, questa scuola è molto premissiva, anche grazie agli progetti che ci offre e comunque riesce a darci una mano per far conciliare tutti i nostri impegni. Consiglia che si sta affacciando al mondo dello sport agonistico? Beh, gli consiglio innanzitutto di avere una buona organizzazione, perché questo è determinante per la buona riuscita sia nello sport e sia nella scuola. E soprattutto gli consiglio di vivere la sua vita in modo sereno e non avere troppe preoccupazioni. Ciao, sono Giorgia Ferronato, faccio la quinta all'Inaudi e gioco in Serie B quest'anno. Sono di circa 10 anni, forse 12 anni che gioco a pallavolo. Come è iniziata la passione per questo sport e quali sono stati i tuoi primi passi? Beh, quando si è piccoli, si iniziano un po' a provare sui grandi sport, quindi anche io ho provato un po' danza, classica artistica, equitazione e poi un po' perché gli altri erano negata. Su questo un po' mia mamma giocava a pallavolo da giovane, la palestra era vicino a casa, mi ha portato e da lì poi è nato. Non ho mai smesso e mi sono un po' innamorata di questo sport. Ti racconti un po' la tua routine quotidiana e com'è cambiata rispetto a un tempo? In realtà non è mai cambiata. Cioè io sono sempre stata abituata a fare, da quando sei più piccoli si fanno tre allenamenti. Poi io subito già dall'Under 12 ho cominciato a fare sei giorni su sette e quindi ho sempre dovuto un po' organizzarmi. La mattina a scuola, studio pomeriggio, poi allenamento dalle sei e torno a casa alle undici e mezza e quindi finisco di studiare, vado a letto tardi e la mattina avanti. Poi sabato e domenica è partita. Quindi riesci a conciliare gli impegni sportivi con quelli di scuola? Sì, sì, me la cavo abbastanza. E trovi che appunto la scuola riesca ad aiutarti in questo? Sì, beh, anche con il discorso studente-atleta, la carta, quindi che posso programmare le interrogazioni e chiedere magari di avere i compiti un po', magari non il lunedì perché il lunedì faccio fatica, spostarli. Comunque io cerco sempre di essere disponibile anche ai professori, sentire insomma, mediare un po' le cose, però sì, sì, i professori sono tutti disponibili. Hai mai avuto degli infortuni o difficoltà varie? Sì, ne ho uno tuttora. Gli infortuni fanno un po' parte del mestiere, cioè capitano e tu devi imparare a sicurare il problema. Ti viene un po', ti viene male, ti scavigli, ti fai male agli ginocchi, ti fai male alla spalla. È difficile perché lì per lì, cioè tu vorresti continuare a giocare perché è quello che ti piace fare, però insomma, aspetti, guarisci che è la cosa più importante e poi ti rimetti subito al lavoro. E quali sono stati i tuoi sacrifici più duri? I sacrifici più duri li sento quest'anno perché comincio a essere più grande e voler uscire più spesso con i miei amici e magari quando poi tu vai a giocare a Verona e torni a casa a mezzanotte e mezza, poi apri il telefono, i tuoi amici sono tutti quanti fuori a divertirsi, tu sei appena tornato a casa e sei stanco morto e uscire certamente no. Hai dei progetti futuri a livello sportivo o di vita? L'università è l'anno prossimo, però non ho ancora idea a che facoltà, quindi mi devo un po' indirizzare, però sicuramente poi con il procuratore vedrò dove andare a giocare in modo che riesco a conciliare sia sport che studio. Sono Sofia Zannini, ho 16 anni e gioco a calcio nel Cittadella Women da più o meno 8 anni, da quando ero piccola. Come è iniziata la passione per questo sport e quali sono stati i tuoi primi passi? Allora, è iniziata in terza elementare, me l'hanno trasmessa i miei compagni di classe perché quando andavamo a ricreazione giocavamo molto spesso a calcio e mi hanno invitato a giocare nella loro società a Sant'Eusebio qua vicino e ho iniziato da lì e poi mi hanno chiamato inizialmente nel Bassano, però ho rifiutato perché era ancora una società molto piccola e poi invece mi hanno chiamato a Cittadella e ho deciso di andare a Cittadella. A riguardo dei genitori, come hanno reagito? I miei genitori mi hanno sempre sostenuto, soprattutto il papà, la mamma subito inizialmente era un po' indietro perché sai, una ragazza che gioca a calcio è più difficile, però mi hanno sempre sostenuto, sono sempre loro che mi portano in giro perché rispetto ai calci maschili che magari ci sono i pulmini che girano di più per passare a prenderti a casa, da me invece non c'è neanche il convitto, per me invece per alcune ragazze che vengono da più lontano, tipo quella della prima squadra, cioè i miei genitori mi portano sempre avanti e indietro, fanno 40 minuti tipo di strada, però lo fanno per il fatto che mi vogliono bene e sanno che mi diverto. Secondo te com'è visto il calcio femminile ultimamente? Ultimamente in questi anni, io per fortuna rispetto ad altre giocatrici che conosco, anche gente che ha 30 anni, adesso sta molto crescendo, io diciamo che sono nell'annata fortunata, perché in questi anni proprio è molto visto, anche fanno pubblicità anche in tv adesso, poi ci sono sempre più osservatori, più società che sono disposte anche più piccole a fare una classe femminile, per esempio anche in San Tesebio prima io giocavo con i maschi, da quest'anno c'è anche la parte femminile, quindi sta molto voluto. Hai dei progetti futuri a livello di vita o di sport? Sì, direi di impegnarmi sempre di più, di andare su società più grandi, perché è anche una soddisfazione mia personale e voglio far vedere anche tutte le altre persone realmente quanto valgo e direi di arrivare magari a società altissime, come in questo caso la Juventus, la Roma o anche l'Inter, che sono il massimo soprattutto nella classifica anche in Serie A e poi dall'anno prossimo il calcio femminile diventerà professionistico e quindi diventerà molto più importante e sarà sempre più difficile arrivarci. Ciao, mi chiamo Andrea Castani, ho 17 anni, faccio atletica da 4 anni, dopo aver fatto 10 anni di calcio. e vabbè, nell'atletica ci sono varie specialità, io faccio peso e disco e specialità in generale lanci. Come è iniziata la passione per questo sport e quali sono stati i tuoi primi passi? Allora, prima di tutto facevo calcio, però poi ho detto basta, volevo cambiare e ho iniziato l'atletica a circa terza, seconda, terza media e ho iniziato subito a gareggiare perché mi hanno chiesto comunque perché vedevano qualità e in poche parole ho iniziato così, ho iniziato a fare tutte le specialità e poi mano a mano mi sono qualificato. Sei messato indeciso sull'accettare la proposta di praticare questo sport a livello agonistico? Allora, prima di cose, io ho scelto, non mi hanno proposto, ho scelto di fare gare e dopo comunque se vai nazionali, continui perlomeno. E i tuoi familiari come hanno reagito? I miei familiari hanno detto va bene perché ho anche mio fratello che faceva lo stesso sport e comunque anche lui era abbastanza bravo. Hai avuto infortuni o difficoltà varie? No, cioè difficoltà a livello fisico, ho avuto problemi al polso, ora ho male alla mano, cioè nel senso ho un tendine infiammato e livello mentale, se si può dire, se l'ho avuto qualche momento o no, motivazione e roba varia. E come li hai superati? Beh, continuando ad allenarmi e ovviamente allenandoti comunque qualche risultato ti viene per quello che sono riuscito a uscirne. Cosa ne pensi degli e-sport? Allora, gli e-sport a me, secondo me, sono degli e-sport veri e propri, perché combinano sia coordinazione fisica che mentale e comunque ci sono passaggi, passano molte ore nel praticare, comunque giocare. Hai dei consigli a chi si sta affacciando al mondo dello sport agonistico? Allora, beh, prima di tutto sposta quel peso, perché bisogna lavorare tanto e non fermarsi, perché chi si ferma è perduto ed è molto difficile, però comunque devi puntare sempre più in alto, anche se hai certe qualità comunque devi puntare più in alto. Grazie mille per la disponibilità. Prego. Ciao, io mi chiamo Tommaso Battaglini, gioco a hockey su pista da 11 anni nell'Hockey Breanze. Come è iniziata la passione per questo sport e quali sono stati i tuoi primi passi? Io subito ho iniziato a giocare, seguendo mio cugino e mio fratello, che subito era anche un po' incerto, ma alla fine si era un attore e tutto quanto, alla fine ho iniziato a Bassano. Ci parli un po' dell'hockey? L'hockey è uno sport che si gioca in quattro giocatori di movimento, è un portiere, nel quale si ha appunto i pattini a rotelle, non in linea, ma quattro ruote, due e due, una stecca in mano e dove si cerca appunto di fare cose. Riesci a conciliare gli impegni sportivi con la scuola? Diciamo che non è facilissimo, c'è bisogno di un po' di organizzazione, sapere come sistemare il pomeriggio e le varie partite e i vari impegni sportivi, ma si fa. E secondo te la scuola ti offre questa opportunità appunto, quindi di riuscire a fare entrambe le cose? La scuola da un certo punto di vista mi aiuta, sì, è tipo togliendomi qualcosa a lunedì, che magari la domenica ho delle partite lontane, faccio un po' fatica, quindi sì, la scuola mi aiuta anche. Hai mai subito degli infortuni o comunque avuto difficoltà varie? Ho avuto una voglia prima al polso, ho pure anche stato operato di appendicite, quindi sono dovuto stare fermo e si superano con la voglia di tornare a giocare il prima possibile e comunque non pensandoci. Grazie per la disponibilità e buona fortuna. Grazie a voi. Momento di svago Confronto Vicinanza Curiosità Comunità Relazione Leggerezza Interesse E dare un senso Incontro Condivisione E dare un senso E in Audi c'è 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 Grazie.